Ammonta 3 milioni e mezzo di euro il valore complessivo dei due progetti che l'amministrazione ha deciso di candidare al bando pubblicato dal Dipartimento dello Sport nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La prima proposta riguarda la realizzazione di un impianto per diverse discipline sportive all'interno del Parco della Pace. Sono previste strutture per il rugby e una nuova piastra polivalente per la pratica di attività quali pallamano, pallacanestro, calcetto, pallavolo e adattabile anche alle discipline paralimpiche. La montare del finanziamento richiesto è pari a 2,1 milioni di euro. Il secondo progetto mira invece alla rigenerazione dell'impianto sportivo di atletica leggera Guido Perraro in via Rosmini, costruito nel 1956. È prevista la riqualificazione completa dell'area scoperta e della tribuna per il pubblico e dei servizi, oltre alla realizzazione di una pista coperta di 100 metri per la pratica dell'attività durante tutto l'anno. Il finanziamento richiesto è di 1,4 milioni di euro.